Musica Intanto fare salire rappresentate per Cappellani Giulia Cappellani Esatto La invitiamo qui sul palco E ricordiamo che Cappellani quest'anno offre due premi Uno per la tribute, uno per le inedite Buonasera Giulia Buonasera a tutti Il doppio premi da parte di Cappellani In cosa consiste? Sono due buoni d'acquisto di 200 euro Ciascuno Uno per la band vincitrice dagli inediti E uno per la tribute Quindi due premi, due buoni sconto Uno per ciascuno Ragazzi da 200 euro Non sono pochi, attenzione 200 euro voglio dire E allora partiamo con la prima Capiglia tribute Premio Cappellani Volcari Cash Dove so è lontano il casso Correte, correte Bravo Rocco Così si sale sul palco Complimenti, complimenti Consegnato subito e presto Musica Chiaramente per noi questo è anche un modo per incentivare la musica, la cultura musicale Siamo molto felici di partecipare come sponsor a un'organizzazione, un contest come questo che al diciannovesimo anno di Taro è poco E quindi complimenti ai vincitori e complimenti all'organizzazione Grazie 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 a tutti.